Ella non rispose, Matilde Serao. Che farò senza Euridice? Roma, notte di maggio. Non vi conosco, non mi conoscete. Non vi ho vista mai. E vi vedrò io, forse, mai. Voi, forse, non mi vedrete mai. Eppure, la mia anima, inattesamente, si è legata salda alla vostra, in un vincolo tanto più tenace e stretto, in quanto che oscuro, fantastico e misterioso. E io sento di amarvi, con tutte le mie forze, come se il vostro volto di donna, siete voi giovane, bella. Non lo so, non vi conosco. Come se questo volto, chiuso nell'ombra, mi fosse seducentemente noto da mesi e da anni. Come se il fascino della vostra anima, da mesi e da anni, si esercitasse su di me, e mi tenesse, e mi avvincesse. Chi è mai? La donna che riceverà la mia lettera. E la riceverà, essa, giammai? I vedi impenetrabili, vi cofrono, vi stringono, o creatura del mio amore. E innanzi a questo ostacolo singolare, che io non so superare, che non supererò, forse mai, io fremo per voi, di ammirazione, di emozione, di adorazione. Per la sola cosa di voi che mi sta nota, irresistibilmente nota, invincibilmente nota. La vostra voce, nel colore dei vostri occhi scintillò, balenò mai innanzi ai miei occhi, né la espressione fiera e dolce del vostro sguardo, venne mai ad esaltare il mio cuore, né il sorriso amabile e disdegnoso delle vostre labbra, mi fece languire di speranza o di tristezza. Ma io ho udita la vostra voce, ed essa vibra in me, ed essa palpita in me, e i flutti di una emozione salgono dal mio cuore al mio cervello, e si diffondono, pervadendolo, in tutto il mio essere. Voi cantavate ieri sera, due o tre ore fa, o donna, e io vi ho udita cantare. Con una nitidezza lampante, io ho nella memoria, in questa notte di maggio, che è succeduta alla mia grande sera, tutti i segni mortali che hanno accompagnato il vostro canto. Quel canto che ha evocato, dal fondo del mio gelido e muto cuore, il mio amore puro e forte, per voi. Erano le dieci di sera, sera già tiepida e odorosa di primavera italica, nelle calende di maggio. Io, in moto, fumando, guardavo e non vedevo il mio domestico raccogliere i miei abiti, in un grande baule, poiché l'indomani, come di consueto, io dovevo partire per Parigi, per Londra. Da quei gesti eguali e monotoni del mio servo, arrivava a me la pacata contentezza per la mia imminente assenza, per la imminente lontananza, sebbene in paesi conosciuti e visitati tante volte. L'assenza, la lontananza, costante nostalgia della mia anima inquieta. Con un moto istintivo, qualcuno, forse, mi chiamava nella mia vita interiore. Io mi sono levato e sono escito sulla terrazza della mia piccola casa. Nella nostra piccola casa, dove le mani gentili e il gusto gentile di mia sorella Lisa coltivavano rose e lillà. Ho appena sogguardato, nella larga via Boncompagni, dove si indugiavano nella sera fragrante dei passanti, dove qualche veste bianca di donna si allontanava lungo le sontuose ville e i graziosi villini. Io ho guardato, invece, a lungo, il cielo di primavera che si incurvava su Roma, con qualche fioco scintillio di stelle. A un tratto, voi avete cantato e tutta la vita si è arrestata in me. Non lontano, poco lontano, voi cantavate, nella medesima linea della mia terrazza, ma nella grande villa circondata da un folto, da un florido giardino, che segue la mia piccola casa e il mio giardinetto. La voce vostra esciva da un ampio verone aperto, non lontano da me, ma a me invisibile, perché nella stessa linea di facciata. Largo verone schiuso sui palmizi e sulle odorose aiuole del vostro giardino, e da cui la vostra voce, nel silenzio della sera, giungeva chiarissima. Qual voce? Grave, sonora, penetrante, toccante, talvolta elevatisi in una limpidità cristallina, talvolta languente, velata e bassa, quasi sfiorita, quasi sfinita. Una voce un poco triste, sebbene giovanile, per momenti, e dopo molto, molto più triste. Una voce che si slanciava come un grido di liberazione, che si smorzava come in un sussurro di inguaribile malinconia. O donna, tale una voce evocatrice, invocatrice, che mi basta qui confusamente scriverne, per sentirmi struggere di amore. Voi cantavate la più nobile, la più espressiva, la più armoniosa aria che io abbia mai udita. L'aria in cui più il lamento di un cuore trafitto è sublime nella sua dignità e nella sua misura. L'aria di Orfeo che piange, che chiede così austeramente, così dolcemente, la sua Euridice, e in cui Gluck ha messo le purissime lacrime e l'inconsolata mestizia di chi ha perduto il suo unico amore. Che farò senza Euridice? Così ansiosamente, con uno slancio frenato dalla dolcezza, chiedeva nel canto perfetto la vostra voce, no, la vostra anima dolente. Dove andrò senza il mio bene? Domandava con espressione di spasimo represso, la vostra voce, vibrante del più alto ardore. Allora, o donna, io non ho saputo più nulla di me e del mondo. La mia vita si è chiusa nella vostra voce, si è chiusa nell'ansietà vostra misteriosa, si è chiusa nell'anima vostra palpitante, misteriosa. La notte si fa alta, come alto il silenzio a me intorno. O donna, io non vi conosco, non so d'onde veniate, d'onde andiate, non so se siete libera o prigioniera. Non so niente di voi, signora, ma voi mi avete vostro. O signora, o sconosciuta, vostro, o mia signora, per oggi, per sempre, io, vostro, io, l'ho sconosciuto. Roma, quattro maggio. Da iersera a stasera una duplice vita si agita e tumultua in me e fieramente combatte, in me che sino a ieri trascorrevo dei giorni calmi e simiglianti, in piccole gioie inespresse, in tenue malincolie evanenti. Da ventiquattro ore io sobbalzo dalle più acute volutà sentimentali alle glaciali aridità della ragione. Io sento pulsare il mio caldo sangue nelle mie vene. Quando mai così? Mai! E tumultuare il mio cuore sotto la mia gola mentre, dopo un istante, i fiotti dell'amarezza mi sommergono in un mortale sfinimento. È la giornata di un folle quella che ho vissuta. Da iersera a stasera è quella di un folle innamorato che freme e spasima per un fantasma. Perché io non sono certo che voi esistiate, o donna del mio amore, ma secolai che l'altra sera con la sua voce grave dolce e gemente ha picchiato alle porte del mio cuore e le ha viste schiudersi ed essa vi è penetrata. Signora di me, se questa creatura esiste, come io dubito talvolta, già che la mia ragione ogni tanto ghigna su di me, suggerendomi che io abbia solo sognato, il gran grido di Orfeo che cerca Euridice, secolai che mi ha preso l'anima ai sensi, invincibilmente, nel suo appello amoroso e triste, nella notte di primavera, a ieri mattina non tanto presto, raccolto da una aiola del suo giardino la mia lettera, se essa, la sconosciuta, ha letto la mia prima lettera, se costai che io amo, costai che io amerò sino a quando i miei occhi morenti contemplino il loro ultimo sole, ha udito la mia prima parola, bisogna che ella sappia ancora tutto di questa prima giornata di follia, di questa prima giornata di amore. leggete ancora, o donna, del mio sogno sentimentale. Ho sognato, forse, forse voi siete un fantasma e sappiate che cosa sia una possente realtà amorosa. Sapete voi che abbia mai fatto io iernotte quando ebbe finito di scrivervi convulsamente in preda a un'alta allucinazione la mia prima lettera? Le lessi in un impeto di entusiasmo sentendo esaltare tutta la mia essenza mortale alle mie medesime parole. La riflessi dopo e qualcuno rise in me, rise di me, rise delle mie pazze parole. Buttata sul mio tavolino innanzi ai miei occhi la mia lettera vigiacque un poco mentre io lottavo contro le beffe della mia ragione. A un tratto io vinsi lo scherno interiore, presi la lettera, uscii dalla casa mia dove quietamente dormiva la mia dolce sorella lisa e i miei servi riposavano. Erano le tre di notte, non un'anima in via buon compagni, non un passo, non un rumore. Cautamente due volte girai intorno al cancello ermetico che cinge l'ampio giardino dove tra gli alberi ombrosi e le larghe ai vuole si cela in fondo la nobile villa dove voi cantavate ieri sera. Scovrii dove il cancello si chiude quando gli equipaggi vi debbano entrare. Scorsi ove si prema il campanello per suonare arrivai a leggere sovra un pilastro del cancello sovra una placca lucente le parole Villa Star. Girai ancora e nella stretta via adiacente trovai una porta più piccola quella di servizio forse. Il nome ripetuto Star la stella la stella niente ne vibrava in cielo tutto era serrato tacido buio sulla terra in quell'ora notturna per un attimo esitai ma immediatamente dopo introdussi una mano e un braccio fra due ferri del cancello e lanciai con forza dentro la mia lettera essa non cadde molto lontana la vidi biancheggiare ai piedi di un albero guerrilmente mi venne una voglia immensa di riprenderla di riaverla scossi la serratura del cancello come un fanciullo come un ladro e fuggii di corsa per la via rientrai in casa mia attraverso il suo silenzio e le sue ombre mi buttai angustiatissimo sul mio letto soffocando nei guanciali il mio tumulto morale e fisico non mi calmai che assai lentamente assai più tardi verso l'alba ho dormito e vi ho sognato o donna o fantasma e perché l'enigma soave e crudele ancora mi perseguitasse nel sonno nel sogno mi ha vista apparire ora lontanissima inafferrabile sparente ora vicina quasi tangibile ma col viso rivolto altrove ora vicina ma con un volto di cui nel mio incubo non giungevo a scorgere i tratti e me ne dolevo e gemevo nel sonno alla prima ora mattinale io era sulla mia terrazza allo spigolo estremo verso Villa Star quel nome scintillante la stella e sporgendomi molto ho visto sotto l'albero ancora biancheggiare la mia lettera niuno l'aveva presa a quell'ora naturalmente ma un'immensa delusione mi colpì nel cuore stesso come un colpo inimico pensai che quella lettera sarebbe rimasta colà a marcire sotto la rugiada a ingiallirsi sotto il sole a disfarsi nella terra umida o che forse il rastrello di un grosso lano giardiniere ne avrebbe portata via spazzandola fra le foglie cadute richiusi rudemente i vetri della mia terrazza sdegnato contro il mio destino sdegnato contro il mio sogno e contro me stesso e vogli tutto obbliare e vogli ripigliare subito il mio consueto progetto di partenza e andai a svegliare vivamente la mia cara Lisa e detti gli ordini minuziosi rapidi precisi al mio servo per questa partenza monotonamente frenando con un tenace sforzo di volontà tutto quanto vi era di desolato e di ardente in me per il mio sogno disperso per il mio sogno distrutto io compì una serie di atti ragionevoli usuali quelli di qualsiasi altro uomo pacifico che parte tranquillamente per Parigi e per Londra e ricerca delle carte ne lacera e ne conserva che scrive dei bigliettini di congedo che parla al telefono con l'ufficio dei Wagon Slit che fa dei telegrammi e che decide infine di andare a colazione da una sua antica e buona amica come fa ogni giorno prima di partire per un senso di gentile gratitudine a un amore spento tanto tempo prima e a un tratto poiché l'ora volgeva quasi al meriggio distrattamente di nuovo escii sulla mia terrazza fiorita distrattamente i miei occhi fissarono il giardino di Villa Star la mia lettera non era più sotto il grande albero qualcuno l'aveva raccolta è portata via qualcuno in una passeggiata mattinale qualcuno voi voi donna mia mia signora voi solo voi ne sono stato certo fulminamente certo come della mia morte è nelle vostre mani la mia lettera sono sotto i vostri occhi le mie profonde schiette parole è nella vostra anima la voce vibrante del mio altissimo amore oh creatura cara infinitamente cara com'è nella mia anima vibrante la vostra voce che chiede dolorosamente teneramente di euridice del suo bene dove siete voi a quest'ora di notte in quest'ora della vostra rivelazione inaspettata oh anima io spasimo in questa sera di maggio bella come l'altra anelando di udirvi io sono in ascolto da tre ore come ebro come un folle io vi invoco da tre ore e voi non mi rispondete e mi viene da piangere mi viene da gridare voi non rispondete al mio appello angoscioso la vostra divina voce di donna non si fa udire animando la sera di primavera villastara ai suoi veroni aperti illuminati ma è muta mi pare deserta e la sua luce in tanto silenzio mi fa paura dove siete oh anima e vi siete mai stata in codesta villa e vi avete mai cantato io ho cercato e molto saputo in questo pomeriggio io so che quella villa star appartiene a una vecchia molto vecchia dama inglese che l'ha compilata e abita da tre anni Lady Rosalind Melville ha 75 anni e vedova da 20 anni del diplomatico dell'ambasciatore Melville che fu a Roma accreditato per vari anni i suoi figli e le sue figlie sono persone mature che vivono in Inghilterra in India nel Belgio essa non ha nepoti che si sappia e che si è mai venuti a Roma vive con una dama di compagnia 50enne e la riceve per lo più nelle tarde ore pomeridiane le sue antiche amiche della società romana non riceve mai di sera dove siete dove siete cuor mio perché non mi rispondete perché non cantate perché mi lasciate disperare solo in questa seconda notte dell'amore mio solo senza voi senza la vostra voce sublime devo io dunque morire senza avervi mai vista senza avervi neppure più udita io muoio senza di voi mi lascerete voi morire colui che vi ha amato senza conoscervi senza vedervi che vi ama di un amore intenso di un amore che mai certo avrete incontrato su questa terra di un amore che non incontrerete mai più nel vostro viaggio mortale questo sconosciuto che gitta innanzi alla vostra immagine tutto se stesso tutta la sua esistenza deve dunque perire miseramente così la sconosciuta in nome di quel Dio che voi forse venerate e a cui io mi rivolgo in questa notte di inutile di sterile di opprimente attesa in questa notte di lunga straziante delusione in nome di quanto avete di più caro nella vostra anima o sconosciuta apparite apparitemi domani dopo aver udito questo grido di ambascia domani per pietà per compassione per umanità perché un uomo giovane forte nella pienezza delle sue energie e nel maggior impeto del suo amore non muoia per voi per il vostro Dio che è forse il mio se voi non siete un'ombra fuggente se voi non siete una creatura della mia fantasia se siete un essere reale se siete una donna se avete un'anima di bontà se avete un cuore di tenerezza se avete raccolto la mia prima lettera e sapete di me e del mio destino se al medesimo posto domattina voi raccoglierete questa seconda in nome di Dio in nome della pietà umana in nome dell'eterno nostro giudice apparite apparite allo sconosciuto perché egli non muoia senza avervi veduta grazie a tutti